Ciao a tutti, allora oggi faccio un altro esperimento, si chiama inaudible whispering, quindi andrò a parlare molto molto fiucamente in un certo senso, cioè farete fatica a capire quello che sto dicendo e quindi niente, let's get it, go, ditemi se vi piace. Grazie a tutti. ho fatto una piccola morbita oggi ho fatto una piccola morbida e il mio documento è molto buono ho comprato dei libri io ho comprato dei libri che mi ha fatto molto bene che ho fatto dei libri che ho fatto dei libri che ho fatto i libri che ho fatto un lavoro per bere veramente dei libri e che sono tanti e poter fare dei tumori in realtà in realtà come lascio il mio libro veramente apporto perchè non faccio il mio libro è proprio tutto in cui quando lo si fa io mi ho cominciato in teoria di cobera e per il corpo e come ci si sente e ovviamente per i muscoli, per i cali, per i cali, per i cali e per i cali, per i cali e per i cali e per la forza di cuore e poi finalmente quanto ho fatto la mia il giorno lo faccio anche magari 30-40 minuti al giorno circa 30-40 minuti al giorno occupami del mio tocchio proprio il mio tocchio ecco